Shazam, La furia degli dei, diretto con abilità da David F. Sandberg e interpretato dall'incantevole Zachary Levine e i panni del celebre supereroe DC Comics, è un atteso sequel che rinnova il fascino dell'universo cinematografico 600. Questa nuova avventura ci porta a seguire le vicende di Billy Batson e dei suoi fratelli adottivi, in una lotta epica contro le tre figlie di Atlas, di greche con intenzioni ambiziose. Il giovane orfano Billy Batson, dotato del potere di trasformarsi in Shazam con la semplice pronuncia di una parola magica, condivide la sua vita con i suoi affezionati fratelli adottivi, Freddy, Mary, Eugene, Darla e Pedro. Tuttavia, la tranquillità della loro esistenza viene bruscamente sconvolta dall'apparizione minacciosa delle tre figlie di Atlas, di greche assetate di potere. Billy e i suoi fratelli si trovano a fronteggiare una sfida titanica, poiché devono impedire a queste divinità di pigare il destino del mondo ai loro voleri. Shazam, La furia degli dei è un film che riesce a combinare con maestria elementi di azione, avventura e comicità, offrendo una straordinaria esperienza cinematografica. Punti di forza. 1. L'iconico Zachary Levi. Zachary Levi si conferma ancora una volta come la scelta perfetta per il ruolo di Shazam. Grazie al suo carisma irresistibile e al suo talento comico, Levi riesce a dare vita a un personaggio convincente e affascinante. 2. L'arte della comicità. Il film brilla grazie all'umorismo scimpillante e alle scene divertenti che ne fanno una visione piacevole e leggera. Questo equilibrio tra momenti di serietà e comicità cattura l'attenzione di un pubblico di tutte le età. 3. Una sceneggiatura coinvolgente. La trama, ben congegnata e coinvolgente, fonde con successo elementi d'azione, avventura e commedia. L'evoluzione dei personaggi e le sfide che affrontano tengono incollato lo spettatore all'evolversi della storia. 4. Un messaggio di speranza. Il film trasmette un messaggio positivo di speranza e amicizia, sottolineando l'importanza dei legami familiari e dell'unità nella lotta contro l'avversità. Punti deboli. 1. Prevedibilità narrativa. In alcuni punti, la trama risulta prevedibile, e alcuni colpi di scena potrebbero essere anticipati da spettatori più esperti. 2. Limiti della CGI. Nonostante l'uso spettacolare della computer grafica, alcune scene d'azione possono risultare leggermente artificiali. Shazam, la furia degli dèi è un film imprescindibile per gli appassionati di supereroi, di azione e di commedia. Grazie al suo mix equilibrato di avventura, comicità e magia, il film cattura l'essenza del supereroe Shazam. In modo coinvolgente e divertente. Nonostante alcuni elementi prevedibili, questa pellicola si erge come un'eccezionale aggiunta al DC EU, offrendo ai fan un'altra opportunità di immergersi nell'universo incantato dei supereroi. Grazie a tutti.